Ecco siamo sulla spiaggia di Bevalon, una bella giornata di sole. Adesso andremo verso la punta più a sud. Ecco qui siamo di fronte al Coral Strand. Ecco qui siamo arrivati di fronte al Beraglia Resort. E si trova quasi in fondo a questa spiaggia. Ecco qui stiamo assistendo a una sessione di pesca. Ecco qui ci troviamo di fronte all'Underwater Center Seychelles. Ecco che stanno chiudendo la tratta. Ecco qui stanno chiudendo la tratta. Ecco siamo arrivati in fondo alla spiaggia. Qui ci sono alcune alghe. Ecco qui stanno chiudendo la tratta. Ecco qui stanno chiudendo la tratta.